70.000 aggressioni annue in Italia significa tante in un giorno. Da morso di cane? Da morso di cane, sì. Qui in una specifica ho voluto fare questi dati raccolti rapidamente questa mattina. Alcuni di questi vengono denunciati, naturalmente la vittima può essere estranea nel 36%, spesso è conosciuta. Mentre i casi non denunciati sono quelli che avvengono nelle proprie case. Qui purtroppo la fanno da padrone, nel senso che i numeri sono a sfavore dei bimbi, quasi sempre loro sono i più coinvolti. Vediamo addirittura, il 30% di questi casi sono bambini che hanno meno di 10 anni, quindi molto piccoli, e dagli 11 ai 20 anni il 17%, insomma è un bel numero. Quindi in linea di massima purtroppo sono interessati gli adulti nel 40% dei casi e nei bimbi nel restante dei casi, soprattutto nell'ambiente domestico, familiare. Vengono praticamente colpiti gli arti superiori e gli arti inferiori, ma nei bimbi il volto la fa da padrone. Quindi i danni purtroppo sono anche molto più gravi. Professore, come sta la bambina? Prima di raccontare come siete intervenuti, ci può rassicurare? Sì, la bimba l'ho vista proprio ieri, è carina, sorridente, l'ho fatta venire in clinica e aveva già tutti i capelli puliti, la mamma ne aveva anche, anzi penso del parrucchiere, quindi era proprio piena di sé, sicura che dovesse andare oggi a scuola ed era contenta.